80 milioni per le borse di studio Odontoiatria solidale, unanimità dell'aula Fusioni di comuni decideranno i cittadini Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati 80 milioni per le borse di studio approvato all'unanimità il disegno di legge da 6 milioni che permetterà di soddisfare il 100% delle domande Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge 233 che prevede un aumento di 6 milioni dello stanziamento regionale che permette di coprire al 100% le 16 mila richieste di borse di studio universitario 2022-2023 Il Piemonte quindi con questo provvedimento presentato dalla Giunta investe 39,6 milioni a sostegno di uno stanziamento complessivo che con la parte garantita dallo Stato arriva alla cifra record di quasi 80 milioni nella nostra regione Relatrice di maggioranza Sara Zambaia Lega Ci teniamo come regione Piemonte a dare una risposta tangibile ma soprattutto un'opportunità a tutti i nostri studenti piemontesi e fuori sede anche perché questo provvedimento rende il Piemonte non solo più attrattivo anche grazie all'elevatissima qualità dei nostri percorsi di studi ma anche proprio più inclusivo nei confronti degli studenti che provengono da fuori sede Relatori di opposizione Diego Sarno, Partito Democratico, Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre e Silvio Magliano moderati La vocazione universitaria della nostra regione è decisiva come ruolo strategico di crescita e di sviluppo e garantire al 100% le borse di studio un ulteriore volano per arrivo di studenti capaci e meritevoli che studiando in Piemonte potranno poi arricchire le nostre comunità sia le nostre imprese che le nostre aziende Sono intervenuti per dichiarazioni di voto anche Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi e Maurizio Marello, Partito Democratico Unanimità da parte dell'Aula anche per la proposta di legge sull'odontoiatria solidale a favore dei meno abbienti Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità la legge sull'odontoiatria solidale per le fasce più deboli della popolazione presentata dal primo firmatario Alessandro Stecco, Lega Il provvedimento illustrato dal relatore di maggioranza Giovanni Battista Poggio, Lega prevede che la regione nell'ambito delle proprie competenze favorisca l'attivazione di reti di collaborazione tra gli enti del terzo settore e le aziende sanitarie con il coinvolgimento di odontoiatri e igienisti dentali che intendano mettere a disposizione della collettività su base volontaria e senza fini di lucro le proprie competenze e il proprio tempo È anche prevista la possibilità di stipulare convenzioni per individuare contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni inclusi accordi con l'ufficio scolastico regionale per campagne di informazione nelle scuole È normale la possibilità dei liberi professionisti di mettere a disposizione della collettività le proprie competenze professionali e il proprio tempo a favore delle fasce più deboli della popolazione Relatori di opposizione Silvio Magliano, moderati e Monica Canalis, partito democratico la quale ha presentato due emendamenti di cui uno sottoscritto anche da Alessandro Stecco che sono stati approvati dall'Aula Porta all'attenzione della nostra discussione temi importantissimi di rango di fondamento costituzionale come quello della sussidiarietà, dell'amministrazione condivisa con il terzo settore, della coprogettazione Le aziende interessate alla coprogettazione di reti istituiscono con gli enti del terzo settore un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili e ne curano l'aggiornamento presso la direzione competente della giunta regionale inoltre verrà istituito un tavolo tecnico di coordinamento per assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali le cui modalità verranno definite dopo aver sentito la commissione consigliare sanità Di servizi sulla linea ferroviaria Alessandria-Mortara-Milano l'assessore Gabuse ha risposto a un'interrogazione di Shunsacco, Movimento 5 Stelle che denuncia la soppressione di 1299 treni Continuano le segnalazioni dei pendolari sui ritardi e le improvvise cancellazioni sulla linea Alessandria-Mortara-Milano A farsi portavoce delle lamentele dei viaggiatori il consigliere 5 Stelle Sean Sacco che nell'ambito dei Question Time ha interrogato la giunta per sapere quali azioni intenda intraprendere la regione per risolvere il problema Come regione, ha spiegato in una nota l'assessore ai trasporti Marco Gabusi abbiamo attenzionato il gestore Trenord affinché migliori il più possibile il servizio Ricordo infine che da settembre 2023, a concluso Gabusi rispetto ai collegamenti con la Lombardia verrà riaperta la tratta Casale-Mortara Via libera al disegno di legge che modifica le norme per la fusione dei comuni il referendum in ciascun ente diventa vincolante Approvato dall'Assemblea il DDL 159 su iniziativa popolare e degli enti locali e il referendum abrogativo e consultivo che riscrive le norme per la fusione dei comuni Il provvedimento illustrato in aula dal relatore di maggioranza Andrea Cane, Lega prevede che l'iter si concluda quando in uno dei comuni interessati il risultato del referendum è contrario alla fusione In pratica, perché la fusione possa avvenire è necessario che in tutti i comuni coinvolti sia d'accordo almeno la maggioranza dei cittadini che partecipano alla consultazione La fusione è quel processo per il quale sostanzialmente vengono accorpati i servizi e vengono anche accorpate tutta una serie di tipologie di uffici nonché ovviamente della parte politica che in questo modo garantiscono su territori che naturalmente devono essere contigue e che devono avere anche delle somiglianze e delle similarità l'efficienza, l'efficacia Sistemata la questione dal punto di vista teorico poi dobbiamo anche cercare di sistemarla dal punto di vista pratico con degli interventi di sostegno ai piccoli comuni che possono essere efficaci per renderli sempre più forti e per aumentare anche quella che è la partecipazione della popolazione alla vita del comune stesso Le REMS, le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza hanno compiuto dieci anni un convegno in Sala Viglione ne ha analizzato potenzialità e problematiche Un bilancio e un'analisi ad un decennio dalla loro istituzione delle REMS, le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza che hanno permesso il superamento degli OPG gli ospedali psichiatrici giudiziari Il tema è stato affrontato nel corso di un convegno che si è tenuto in Sala Viglione organizzato dall'Ufficio del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale durante il quale è stata presentata una ricerca interdisciplinare condotta a livello nazionale dall'Università degli Studi di Torino mirata ad approfondire problematiche e potenzialità delle REMS Una volontà di fare il punto della situazione per vedere che cosa ha funzionato che cosa si può cambiare in un quadro normativo e organizzativo che si sta definendo con fatica anche con sentenze della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ma nella pratica quotidiana Il punto di forza del Piemonte è la presenza di due Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza che funzionano, hanno funzionato fin da subito per accogliere i pazienti all'indomani della riforma I punti di debolezza sono che dobbiamo ancora fare un lungo percorso sul territorio per migliorare la coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale e la cura sul territorio per evitare che le richieste di accesso siano eccessive rispetto alla possibilità di accoglienza Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti